Uomini e donne. Ecco la foto che smentisce Maria De Filippi. Anteprima. Leonardo Baiocchi esibisce pubblicamente foto scattate con Desiree Popper sui social smentendo la redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi. Già ai tempi del GF14 si mormorava che Desiree Popper fosse fidanzata, ma l'altro giorno, quando a Uomini e Donne Rosa Perrotta ha parlato del misterioso sessantenne con cui si mormora che la tronista brasiliana sia addirittura sposata. La signora Costanzo ha dichiarato in puntata che questo fantomatico ex ricchissimo nemmeno esiste. Insomma, non ha un'identità. Peccato che ce l'hai come, e noi siamo riusciti a scovarla. Prima parte. Viene fuori l'identità del misterioso ex di Desiree Popper. Ieri vi abbiamo raccontato di com'è, uscita dal grande fratello XIV, dove era entrata nelle vesti di attrice per tentare il concorrente Alessandro Calabrese, Desiree Popper fosse tornata tra le braccia del maturo e facoltoso fidanzato. Lo stesso che secondo Maria De Filippi non esisterebbe. La conduttrice, infatti, ha risposto così a Rosa Perrotta che giustamente chiedeva perché di lei in studio viene riportato di tutto e di più, mentre di Desiree Popper ogni voce si tace. Mentre la De Filippi diceva che il sessantenne non esisteva, la bellissima brasiliana non ha mai confermato ma ha attaciuto e sorrideva a sorniona. Seconda parte. La De Filippi smentita da una foto. Sì, perché l'uomo esiste, si chiama Leonardo, e anche se Desiree Popper ha fatto sparire dal suo profilo Instagram la foto del fidanzamento ufficiale risalente alla fine del 2015, l'uomo ha ancora una foto con la ragazza sulla copertina di Facebook, tra le cinque foto che il social consente di mettere in evidenza in quanto più rappresentative della propria vita. La domanda sorge spontanea, perché tenere una foto dell'ex tra queste? Ultima parte della news sul trono classico. Perché l'ex della tronista ha ancora in copertino una foto con lei? Forse non è tanto ex. Addirittura abbiamo notato un altro dettaglio, ovvero che in una foto dell'uomo a casa sua, dietro di lui, sulla libreria, spiccano le iniziali di P accanto alle iniziali dell'uomo, che non diciamo per privacy, anche se il profilo e le foto rappresentative sono visibili a tutti i pubbliche. Tirando le somme, il ricco sessantenne esiste e ancora una foto assieme a Desiree tra quelle della copertina di Facebook, se fosse trattato di rosa per rotta, l'avrebbero certamente massacrata in studio, come già stato fatto più volte, perché della popper nessuno dice nulla, qual è la verità, come sempre le news su uomini e donne arriveranno copiose per intrattenervi e aggiornarvi. Alla prossima! Grazie. Grazie.